Mi hanno chiesto se sia possibile recuperare i file dal cestino svuotato. Immagina di stare scrivendo un documento di Microsoft Word. Quando lo salvi, quello che hai scritto viene incapsulato dentro ad un contenitore chiamato file. I file vengono conservati all'interno delle memorie. Le memorie per computer sono divise in blocchi. Il tuo documento, dunque, occuperà un certo numero di blocchi. Se cancelli il file, esso verrà spostato nel cestino. Quando lo svuoti, i file vengono eliminati. In realtà, però, non vengono davvero eliminati. I blocchi vengono marcati come liberi. Per salvaguardare la durata delle memorie, il contenuto dei blocchi liberi non viene mai eliminato. Finché essi non vengono sovrascritti, è sempre possibile recuperarne i dati, usando dei programmi di recupero dati che scansionano la memoria alla ricerca di blocchi marcati come liberi, ma che ancora contengono dei dati. Più tempo passa e più diminuisce la possibilità che tu possa recuperare il file. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti.